Peccolina come loro, non aveva latte mia madre, allora c'era una signora che aveva produrito il ciuchino, era nato un bel ciuchino, e io ho bevuto il latte del ciuchino, quindi sono la sollevata del ciuchino. Questa è una delle tante storie meravigliose delle nostre nonti, ma come è stato questi giorni? Bene, sono i tanti, con i bimbi, si, con tutti, se vuoi il piano, e te le roseanne? Bene! Guarda, 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 mi dico, mi sei divertita, mi sono divertisissima! Allora io vi ringrazio a tutti e buona visione